Non si ferma la marcia di avvicinamento della Nissa al prossimo campionato di eccellenza. La società biancoscudata ha tesserato l'esterno d'attacco Ernesto San Martino. Nisseno di 24 anni, San Martino ha militato, nelle ultime tre stagioni, tra le fila dell'Atletico Nissa, mettendo a segno 40 gol. Giocatore dotato di grande velocità e di un buon dribbling, ha tra le sue caratteristiche anche il senso del gol, e i dirigenti ritengono di aver aumentato il potenziale offensivo biancoscudato. Le novità non si esauriscono qui, visto che la Nissa in questi giorni ha la ricerca di giovani talenti che possano alzare la qualità del settore giovanile e anche della prima squadra. Il tecnico Alessandro Settineri e l'allenatore della squadra Juniors Giacomo Serafini stanno infatti valutando alcune giovani promesse in uno stage in corso sul terreno di gioco dello stadio Enrico Greca di Pergusa. Quello della valorizzazione dei giovani talenti è infatti uno dei punti chiave che il neopresidente Sergio Iacon aveva indicato come base del nuovo percorso biancoscudato. Grazie. 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 Grazie.